Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Bintoulou e vi farò vedere un po' i dintorni della città perché il posto è veramente molto bello farò un giro in moto, il cosiddetto moto rider vediamo un po' di mostrare anche a voi qualche immagine perché merita tantissimo il posto io è la prima volta che sono capitato qua, non so anche io cosa c'è andando avanti ma qui attorno è tutto bellissimo, è una favola seguitemi la cosa più difficile sarà riuscire ad uscire qua dal posteggio, guardate è una città giardino è un orto botanico come potete vedere vi è la pista ciclabile di qua dove sono io è la strada, quattro corsie, bellissima alberata guardate di lato che paesaggio vi è un giardino botanico immenso sotto nella città ecco qua siamo arrivati ad una rotonda, lì si sale, c'è una sbarra, sarà una zona privata ecco questi parchi qua sono immensi, è possibile anche andare dentro a visitarli, ci sono dei punti d'ingresso ecco giù di sotto di lì si vede che c'è dell'acqua, fanno da mangiare, c'è un po' di fumo, cucinano all'aperto ecco qua la gente fanno picnic un po' da potuto, ecco la caratteristica del popolo malese è che sono sempre dietro a mangiare mangiano sempre in continuazione eccoci qua eccoci qua, siamo arrivati allo sbocco sul mare finalmente dopo chilometri di foreste comunque i giardini parti, guardate sono curatissimi, l'erba tagliata guardate qua c'è un campo da golf è lo sport nazionale qui il golf, è un campo da golf bellissimo, hanno messo questa rete per evitare che qualcuno sfori tirando qualche pallina in testa a qualcuno che passa ecco qua abbiamo un canale artificiale, vedo uno con la moto d'acqua e guardate il campo da golf qua è bellissimo varrebbe proprio la pena di fermarsi qua, andare nel campo da golf a giocare una partitella ecco qui c'è un altro come me che non sa cosa fare ecco qua vanno con le moto d'acqua ecco si divertono in questo modo qua in modo semplice, il contatto con la natura, le moto d'acqua e il campo da golf il campo da golf è veramente immenso, poi è bellissimo, è figurato in una maniera è una cartolina sto campo da golf penso che è il più bel campo da golf che abbiamo mai visto di sicuro ok ragazzi vi ho fatto provvedere quello che si vede uscendo dalla città il concorso extra urbano ci sentiamo alla prossima, continuate a seguirmi nella mia pseudo trasmissione di Teladoyola Malesia ciao a tutti ciao